Ciao a tutti toretti e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla serie agricola e oggi siamo qua ancora davanti ai nostri mezzi tra l'altro ho notato un piccolo calo di qualità negli ultimi due video nel senso non laggava tanto ma c'era una grafica un po' peggiore infatti guardate qua, qua davanti mi carica pian piano quindi dovrete abituarvi per questo periodo un po' così la luce è un po' una cosa fatta male, questa modalità e allora, se non mi sbaglio c'è Silly e il Fiat che stanno andando avanti infatti vedete qua non mi carica l'erba però fa niente allora, non perdiamoci in chiacchiere, alziamoci un po' dal terreno e come se vi ricordate volevo fare una missione allora, se non mi sbaglio due belle missioni una al campo 10 e una al 13 ma direi di fare al 13, qua vabbè ho lasciato perdere perché non ho il sollevatore frontale allora, una è questa che è al campo 10 ma no noi andiamo al campo 13 che ci dà il metitura ancora allora, presta oggetti ci facciamo un attimo un conto questa, trattore, quello ci pagano 21.000 allora, questa quanto costa noleggiarla? ah, 25.000 ok in teoria non ci staremo mai dentro ma proprio mai ora di lavoro, al giorno vediamo invece il trattore più o meno è un trattore sì medio 9.000 anche di questo ma secondo me hanno dei prezzi gli fanno dei prezzi onesti a loro perché sennò accetta presto oggetti eh, per forza andiamo a provare un po' ah, devo annullare questo prima ok, non so che cavoli è successo però ce l'ha annullato e, eh, presto oggetti e andiamo a fare il a trebbiare il campo 13 ecco qui il nostro macchinario la nostra Grimm così che la proviamo un po' sembra ah, sterza pure posteriormente fantastico non lo sapevo è un po' come un cingolo sterzante in un trattore nella parte davanti allora, il campo 10 sì, c'è, scusate, 13 ci arriendo a questa vediamo un po' se è il 13 sì è il 13 e è da raccogliere sono da raccogliere le patate allora questo qua è un nuovo macchinario adesso guardiamo un po' com'è vabbè, i specchietti un po' sì, un po' no fanno tra l'altro quello no ok ah, non van perché ci sono quelli davanti aspettate, sono specchietti davvero anche questi? infatti sono dei fari ok ma pensavo fossero specchietti invece sono fari e la targa gli altri specchietti sono lì davanti tipo allo stile camion americani allora, il pedale è animato? no ah, non è animato il pedale è una piccola mancanza questa qua è da dire alla Giants vediamo un po' com'è fatta di sterzo ma sembra che Ester sia anche abbastanza bene allora, le vecchie la vecchia Grimm era fatta cioè, non così però aveva i cingoli davanti se non mi sbaglio ah, Ester sa bene allora, ci giriamo un po' aveva dietro si aveva i cingoli davanti e dietro una ruota stersante unica, centrale cioè, bella larga era però, era una allora, accendiamo abbassiamo ok si, lo so è riservato al contratto che stiamo svolgendo allora iniziamo a lavorare 10 km orari ok vediamo un po' quanto porta devo formarmi prima ah, 9000 litri perfetto quindi non porta praticamente nulla il mio obiettivo di questa cosa qua da fare è da farmi tutto il campo cercare di fare il più del campo diciamo perché non lo farò sicuramente tutto io e poi userò l'automatico ogni tanto magari però cercherò di utilizzare almeno possibile così che ci pagano di più noi e noi dobbiamo pagare l'operaio ero quasi intenzionato a cercarmi una mod la quale non pagasse l'operaio sarebbe una mod molto interessante potrebbe dare un'occhiata tra l'altro adesso diamogli un attimo l'operaio ci prendiamo il nostro cioè il nostro andiamo a ritirare il trattore il Fend serie 700 vediamo un po' cos'è è un 724 buono con l'agroliner cioè io non so voi ma l'agroliner è dal 15 che mi piace un sacco ok possiamo partire ma come che rumore strano che fa fa davvero rumore strano questo Fend ma comunque si l'agroliner è forse uno dei rimorchi miei preferiti riguardante se non rimorchi se si escludono i rimorchi italiani tipo Bossini Ravizza Visini e cose così comunque guardando di rimorchi italiani ce ne sono un sacco ci sono quelli che ho detto poi Pagliari Zaccaria poi l'altro che ha fatto sbuff non mi ricordo più non mi ricordo proprio più allora piazziamolo qua dai e saliamo a bordo di lei devo abbassare giustamente funziona anche in retro la la srama cioè la la rimozione delle foglie praticamente e andiamo avanti cosa fa? 2, 3, 4, 5 file alla volta eh oddio sarà un po' lungo come cosa però spero che ci paghino quel che han detto e non che ci diano soltanto 2000 euro perché altrimenti sarebbe un po' una cavolata il fatto delle missioni quest'anno è molto interessante però funziona bene soltanto se avete le vostre attrezzature come avevo già detto questa cosa qui è un po' per valutare se ci conviene o no perché poi porto su desto dobbiamo portare tutto sì vabbè con il trattore che abbiamo è fattibile ma comunque sì avanti e indietro è piena è lunga come cosa cioè verrà veramente è una cosa lunghissima quindi vediamo dai o che mi scarico qualche mod che hackerà il gioco oppure vedo però no dovrei farcela che altro da vedere se rimuoviamo tipo adesso io qua passo sopra vabbè tanto scarichiamo non lo so un po' sotto strada perché non mandava no comunque lo sterzo si sterza bene ma forse un po' meno dell'anno scorso ero convinto che anche questo portasse su almeno 20.000 litri invece no porta veramente poco e mi sa tanto che dovrò fare un sacco di viaggi perché qua si non si è neanche arrivati in fondo al campo eravano già pieni giù un po' di patate anche in cabina e no comunque questa strada qui è un particolare non so per cosa però mi sa di strada diversa dalle altre allora abbassiamo già se no dopo mi dimentico su il coso e partiamo perfetto no comunque come dicevo è anche importante cioè scusate provare queste attrezzature un po' nuove in modo da capire come funzionano e poi magari più avanti poterle anche ad acquistare se abbiamo i soldi se li avremo ovviamente dai già che ci sei scarica un po' di cose perfetto perché sono delle attrezzature veramente interessanti che penso di non vedere che non vedrò mai nella realtà in campo però sono interessanti un po' da scoprire più che altro ok qua si riparte io non ho mai forse una fiera agricola l'avevo vista però non ne sono certo eh sono dei macchinari belli belli grandi che dalle mie parti non li vedrò mai già qua da me ultimamente si vedono trattori tipo John Deere 7930 una cosa del genere con la cippatrice cioè si vedono trattori grossi ma attaccate le cippatrici se no tutta roba sui 100 cavalli 200 massimo ecco eh no dai però spero che siamo al 4% ok si spero di finir presto ma non sarà per niente così quindi adesso magari faccio un taglio ci vediamo più tardi vediamo un po' come siamo messi qua perché sarà veramente lunga come lavorazione ok ragazzi eccoci qua sto usando diciamo un cheat engine alla fine ho trovato quello e sto un attimo vedendo che manca veramente poco quindi adesso vi faccio vedere come ho fatto a raccogliere tutto adesso sto tagliando cioè le strade perché non riesco neanche a seguirle per il tanto che va veloce stiamo ok qua all'interno tra l'altro guardate che bella la luce arancione forse un po' esagerata e ho praticamente terminato quasi tutto cioè manca soltanto un ultimo due o tre scariche adesso vediamo e più che altro poi è da vedere se ci danno i 21.000 ma anche soltanto i 15.000 mi van più che bene da queste parti il campo si è questo qua van benissimo però vediamo quanto ci danno intanto scarichiamo secondo me ok facciamo ancora uno scarico poi possiamo andare a portare cioè possiamo andare a a vendere tutto perché in teoria dovrebbero cioè non dobbiamo trebbiare tutto il campo infatti che nel piccolo percentuale la lasciamo ancora nel campo infatti un po' tra le piante che ci sono ah ok no quando arriva al 100 vuol dire che vado a scaricare siamo a posto ok vediamo sul canotto e tra l'altro ho notato guardate le ore e abbiamo 49 ore su questa miti trebi io non l'ho usata 49 ore anche con il cheat engine se vi interessa Mari potrei farvi un tutorial al riguardo uno tra i tanti che ho intenzione di fare dato che ho una mezza idea di fare una cosa del tipo che magari una volta a settimana o una volta ogni due settimane vi porto un tutorial riguardante farming o il cioè un particolare farming vediamo un po' se riusciamo ad arrivare al 100 no dobbiamo ancora passiamo un po' di qua in teoria ora siamo a 100 in teoria no non siamo ancora 99 99 99 dai dai c'è sto 100 eh siamo quasi arrivati eh no comunque si vede che i mezzi erano già mezzi che avevano mezzi usati mezzi con su già un po' di ore ma forse il 100 lo vuole quando perché non lo so bene come funziona però magari potrebbe essere che il 100 lo vuole quando abbiamo scaricato il carro vabbè ripassiamo un po' qua intanto non ci costa nulla eh ho guardato i mezzi in teoria paghiamo un costo per il noleggio fisso cioè se andiamo sforriamo con il tempo non conta nulla no non volevo l'automatico l'automatico consuma un sacco di soldi vabbè io raccolgo un po' queste cose qua in giro penso che sia perché devo scaricare e poi ci lascia terminare la missione riprendiamo anche da questa tanto per toglierci sto scrupolo però vedrete che quando arriviamo giù ci dirà tutto quanto tanto qui adesso non è che stiamo raccogliendo chissà quanta roba però tanto per lasciare il campo pulito ma mi sa che è finita la missione il campo vabbè non è cattare in crops però dovrebbe ripulirsi da solo ok qui siamo a posto andiamo a svuotare eh no 99% restato restato lì vabbè noi svuotiamo andiamo a scaricare tutto saliamo a bordo del nostro fende e ci vediamo direttamente giù giù al posto così che io mi rimuovo la la città in gina ecco bene ragazzi siamo ritornati qua e diciamo alla velocità normale tra l'altro prima mi si era ribaltato il cassone potete capire che casino allora vediamo un po' 99% dovrebbe darci ok 100% alla faccia contratto sul campo 13 finito perfetto entrate raccolto 3000 euro ah ah ci ha pure pagato il raccolto in più mi sa e in più vabbè costo noleggio soltanto 1000 euro quindi da quel che posso dedurre mi farò anche questa missione no vabbè questa no dov'è che era quell'altra bella sui 20.000 non c'è più eh già perché è cambiato ho passato un po' di tempo no questa qua 27.000 potrei farla eh il tuo equipaggiamento oppure noleggiarlo per ottenere una ricompensa ok praticamente ecco quando vi dice ricompensa diminuita al 6.800 vi toglie ad esempio 976 quindi no le missioni che vi pagano tanto alla fine vi conviene ne farle sì a meno aspettate a parte questo perché con questa attrezzatura non è che sia al massimo cioè farete 25.000 euro diamo un po' il campo e il 16 campo 16 dove è bello grosso ve lo sconsiglio comunque io completo questa e raccogliamo i 20.000 euro che ci dà e quindi dai abbiamo fatto un bel gruzzoletto dato che noi abbiamo già qualva altra è già cresciuta l'erba però non importa farò magari qualche missione ancora però a noi ci serve falciatrice voltafieno li abbiamo noleggiati ranghiatore pensavo a prendere qui eh però 8 metri ma si dai volendo possiamo acquistarlo tra l'altro che cavoli è questo è un muro di una casa boh non ho capito vabbè comunque si penso che magari lo compreremo nel prossimo episodio oppure magari non lo leggeremo ancora per non spendere tutti i soldi e ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi invito come sempre a lasciare un bel like commentare conoscere il video ma soprattutto iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto guardate lì che luce strane che ci sono a casa io vi saluto vi ringrazio noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video ovvero domani che andremo avanti con la fia ragione ciao a tutti diretti ciao a tutti